Io credo che si debba fare una legge regionale sull'editoria, un po' come quella nazionale, per consentire all'editoria che fa pure editoria di attingere anche fondi pubblici per fare un servizio legittimo di giusta informazione, importante informazione che serve appunto alla popolazione per conoscere le realtà. Anche qui non mi invento nulla, perfino il Molise ce ne ha una legge sull'editoria regionale, non vedo perché l'Abruzzo non debba averla. Ovviamente qual è lo spirito? Quello di permettere all'editoria di non essere soggiogata dalla necessità economica e da parte di questo sponsor piuttosto di quello. Io vedo tante testate oggi sia su web, sia cartacee, sia televisive che magari vanno a indirizzo ben chiaro e ben definito perché? Perché c'è un solo sponsor, c'è un solo proprietario che magari non fa quell'attività in maniera previnente ma fa altre attività collaterali e quella è una delle tante e indirizza a suo piacimento, legittimamente, la linea editoriale e anche politica del giornale, della televisione o del sito web. Tutto legittimo, ci sta tutto ma il servizio pubblico, quindi l'ente pubblico deve poter garantire la maggiore trasparenza di informazione e per fare questo bisogna che si faccia una legge che consenta anche a chi fa emittenza libera e senza il vincolo del mono sponsor o del mono proprietario, di poter, il mono proprietario che fa altro accanto a quello, di poter fare un servizio di informazione perché nell'informazione e nel pluralismo delle idee cresce la società e cresce il territorio, quando invece l'idea è monolitica è evidente che si chiudono anche le prospettive e noi dobbiamo allargare la possibilità di conoscenza perché nel confronto crescono le idee.